La diciassettesima edizione del Festival Rocchi Marciano, che si terrà secondo tradizione a Ripa Teatina da giovedì 15 a sabato 17, è stata presentata alla stampa a Pescara in Regione dall'assessore alla cultura Daniele Damario. Anche quest'anno spazio al Festival di letteratura sportiva nelle giornate di giovedì e venerdì, mentre la serata clou sarà quella di sabato 17 con la cerimonia di consegna del premio Marciano, intitolato alla memoria dell'indimenticabile e d'imbattuto campione del mondo dei pesi massimi, originario proprio di Ripa Teatina. Quest'anno poi gli organizzatori del Festival hanno voluto riservare attenzione anche ad un progetto di inclusione sociale che punta a favorire la pratica sportiva nel mondo carcerario. Attraverso la collaborazione dell'Avis di Chieti, la palestra della casa circondariale di Madonna del Freddo a Chieti sarà dotata di ulteriori attrezzature che consentiranno ai detenuti di cimentarsi in attività sportive. Si tratta di una manifestazione che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento importante dell'estate abruzzese, ha detto all'assessore Damario, un evento che quest'anno coniuga al meglio sport, cultura e inclusione sociale e che è riuscito anche a resistere alle restrizioni imposte dalla diffusione del Covid. Va dato atto agli organizzatori ed amministratori comunali di Ripa Teatina pur essendo fedeli alla tradizione nel ricordo del grande Marciano, figlio di un ripese, di non essersi focalizzati solo sul pugilato ma di essersi aperti al mondo dello sport nella sua globalità di rilievo. Anche in questa edizione i nomi dei premiati tra i quali quelli del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, dell'ex campione olimpico dei 10.000 metri piani Alberto Cova e dell'ex campione del mondo dei pesi superleggeri, nonché ex campione olimpico Patrizio Oliva. Tra i premiati anche il nostro Enrico Giancarli per la sua attività giornalistica.